Ma è semplicemente buono e di piacenza, credo che il titolo racconti già tutto, sono le nostre eccellenze, quelle che noi conosciamo bene, quelle che magari dovremmo imparare a comunicare meglio. Le eccellenze della tavola, le eccellenze del vino, le eccellenze delle preparazioni, i nostri primi, l'aglio di Monticelli, le ciliegie di Villanova, la zucca Bertina, tutto quello di eccezionale che abbiamo e che mettiamo in tavola ogni giorno e che conosciamo un po' solo noi, forse se lo facessimo conoscere anche un po' in giro per l'Italia sarebbe meglio.